Amici di Radio Verde, ben trovati a prima pagina, lo spazio due volte settimana che Radio Verde in collaborazione con il giornale Newtusha.it dedica all'approfondimento delle principali notizie della settimana. Apriamo con la principale notizia di tutti i giornali, il clamore che la venuta di oggi del Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti a Viterbo ha creato il rimando che il Sindaco di Viterbo, Leonardo Michelini, ha avuto per il prossimo Consiglio Comunale che doveva svolgersi nella giornata di oggi per l'elezione del nuovo Presidente del Consiglio Comunale ed è stato rimandato a martedì prossimo. La notizia ha creato un vespaio di polemiche, alle 11.30 si svolgerà una conferenza stampa straordinaria della minoranza che vedrà non solo le forze del centrodestra ma anche i 5 Stelle e Viterbo 2020 di Chiara Frontini tutti uniti per criticare l'operato, l'azione del Sindaco Michelini e la scelta di rimandare questa tornata del Consiglio Comunale. Il Sindaco Michelini ha emesso un comunicato con il quale giustificava la proroga del Consiglio Comunale appunto l'aggiornamento a martedì prossimo con impegni istituzionali non differibili. In realtà si tratta della presenza del Presidente della Regione Lazio come detto Zingaretti per l'inaugurazione di un nuovo modello di treno sulla tratta Roma-Bracciano-Viterbo che vedrà la presenza di tutto il Partito Democratico viterbese e di gran parte della stessa maggioranza Michelini appunto con il Sindaco presente. È stata una situazione che probabilmente nelle prossime ore verrà spiegata nella conferenza stampa della minoranza con la quale appunto tutta la minoranza protesta per un'azione che le prime dichiarazioni di Santucci vengono considerate appunto un'azione non giustificabile da un punto di vista amministrativo istituzionale. Addirittura il leader di fondazione Gian Maria Santucci chiede che vadano a casa queste le dichiarazioni su Facebook pochi minuti dopo la notizia appunto della sospensione del Consiglio Comunale di oggi per tutta la maggioranza Michelini. Quindi un tema che sicuramente nei prossimi giorni e anche nelle prossime ore non mancherà di creare degli strascichi un'azione sicuramente non prevista quella del Sindaco Michelini anche da parte della stampa in quanto sappiamo la difficoltà che la macchina amministrativa del Consiglio Comunale ha in questi mesi e soprattutto in queste ultime settimane per le dimissioni di Filippo Rossi dalla carica di Presidente del Consiglio Comunale. Quindi una data, quella del 19 che era stata prevista da diversi giorni e che avrebbe visto nella migliore delle ipotesi la nomina del nuovo Presidente del Consiglio Comunale. Ricordiamo che sono notizie di stampa ma sono quelle più accreditate, i due esponenti più probabili come nuovo Presidente del Consiglio Comunale sono Francesco Serra del Partito Democratico e Maurizio Tofani di Oltre le Mura. Quindi il dibattito si è sviluppato sul rapporto all'interno della maggioranza Michelini tra queste due formazioni politiche, la lista oltre le mura, una lista civica di appoggio al Sindaco che ha portato il Sindaco Michelini alla vittoria e il Partito Democratico che chiedeva il nuovo Presidente del Consiglio Comunale. Quindi una situazione molto delicata che la minoranza dopo questo comunicato che ha visto il Sindaco Michelini prorogare a martedì, quindi aggiornare la seduta del Consiglio Comunale, ha creato grande polemica. Staremo a vedere nelle prossime ore come si svilupperà la vicenda, commenteremo in questo momento, non è stata ancora attuata questa conferenza stampa, quali saranno le scelte e soprattutto le richieste da parte delle minoranze, soprattutto in funzione di un'eventuale richiesta di dimissioni o di chiarimenti dello stesso Sindaco in Consiglio Comunale. Dopo questa prima notizia che è stata certamente la più importante e improvvisa appunto data nelle scorse ore, passiamo all'Onorevole Fioroni che in relazione alla vicenda dell'ISIS dei rischi di terrorismo per l'Italia, è intervenuto presso la Commissione Difesa della Camera, di cui il membro del Partito Democratico è appunto parte integrante, e ha rilasciato un'intervista alla stampa parlando della situazione in Libia. L'Onorevole Fioroni ha detto testualmente, ho trovato molto equilibrato l'indirizzo che ha dato Renzi, prosegue nell'intervista. Il tasso di rischio sta crescendo e noi nel dibattito dobbiamo tenere conto che l'incendio si sta generando nel giardino di casa nostra, ma la via maestra, sottolinea, deve essere quella della diplomazia. L'esponente del Partito Democratico, lo ricordiamo ex sindaco di Viterbo e uno dei personaggi politici più importanti della provincia di Viterbo, ha espresso preoccupazione per quanto riguarda la situazione in Libia, che ha visto l'avanzata dell'ISIS e soprattutto le atrocità e le minacce all'Italia da parte dei terroristi, che non sono assolutamente da sottovalutare, ma sono certamente da prendere con moderazione in quanto l'eventuale scoppio di una guerra è difficile capire gli esiti che avrebbe soprattutto per l'equilibrio e per il rischio immigrazione incontrollata. L'esponente del Partito Democratico, in linea con il Premier Renzi, ha parlato di un eventuale accordo in linea con le Nazioni Unite, ma soprattutto una visione politica e diplomatica alla crisi, quindi una visione a tutto tondo che nelle prossime ore avrà certamente degli sviluppi. Un'altra notizia importante di economia arriva dal Consiglio regionale del Lazio. Il consigliere regionale di Paolo, che non è della provincia di Viterbo un esponente, ma riguarda appunto il distretto ceramico di Civita Castellana, ha interrogato l'assessore competente per quanto riguarda l'assessore Fabiani l'assenza nel programma di Expo 2015 di Milano del distretto civitonico. L'esponente del Consiglio regionale è critico in quanto il distretto della ceramica di Civita Castellana, dice, da sempre rappresenta un enorme potenziale di eccellenza produttiva, un capitale che non è stato adeguatamente valorizzato. È mancata la capacità di fare sistema tra imprese comuni e regioni, dice Di Paolo, per una zona, lo ricordiamo, in aperta crisi con i due terzi degli occupati in cassa integrazione e una situazione che dovrebbe in qualche modo portare ad uno sviluppo della promozione del distretto ceramico di Civita Castellana in ambito italiano ed internazionale, quindi l'assenza del distretto a Expo è un'altra occasione mancata della provincia di Viterbo che dovrà senz'altro essere risolta. Quindi l'assessore Fabiani dovrebbe intervenire e reincludere attraverso un'azione mirata e veloce il distretto ceramico nelle attività promozionali della regione Lazio. Un'altra notizia molto importante, ieri per quanto riguarda la Guardia di Finanza, il comandante interregionale dell'Italia centrale generale di Corpo d'Armata Domenico Minervini ha fatto visita al comando provinciale di Viterbo. Il generale di Corpo d'Armata Domenico Minervini è stato presente ieri presso il comando provinciale di Viterbo, è stato accolto dal comandante provinciale colonnello Alfonso Amaturo ed ha incontrato gli ufficiali di una folta rappresentanza di ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri. Rappresenta anche una delegazione dell'Associazione Nazionale Finanzierica d'Italia, sezione di Viterbo, per sottolineare il legame scindibile tra le fiamme gialle in servizio e in congeto. Successivamente il generale Minervini ha presenziato ad un briefing durante il quale sono state illustrate tutte le questioni di rilevanza circa l'attività svolta dai reparti del Corpo nella provincia di Viterbo, con particolare riferimento alle principali attività di tutela della sicurezza economico-finanziaria. Quindi un'importante presenza istituzionale nella città di Viterbo che consolida il legame del comando provinciale, in questo caso della finanza, ma anche di tutte le altre forze, tra cui i carabinieri e anche la Polizia di Stato, con i loro leader nazionali dal punto di vista sia della presenza sul territorio, sia dei consigli e dei raguai della sicurezza per lo sviluppo a livello locale e regionale. Chiudiamo con una notizia obbligata. La Viterbese è andata a pareggiare a Roccapriore sul campo della Lupa-Castelli-Romani una partita importantissima che era stata rimandata per la delicatezza della stessa partita. È andata in vantaggio la Viterbese con Renan Pippi e ha illuso la Viterbese un risultato clamoroso che avrebbe portato la compagine giallo-blu a un solo punto dalla capolista. Sul finale, negli ultimi dieci minuti, la Roma-Lupa-Castelli è andata a pareggiare e a rinsaldare i quattro punti che rimangono invariati dato lo scontro diretto dalla Viterbese. È una partita che è stata giocata senza i tifosi. I tifosi della Viterbese non hanno potuto assistere, e questo è un motivo di polemica accesa all'interno della federazione, alla partita. La Viterbese comunque ha dato prova di una grande squadra a livello di preparazione. Ricordiamo che la Roma-Lupa-Castelli è il secondo risultato che non vince dopo il pareggio di Budoni e dopo una serie interminabile di vittorie che l'aveva portata a diversi punti dalla Viterbese. La Viterbese aveva recuperato cinque punti nelle ultime due partite e ora si è stabilizzata a quattro punti. Il calendario prevede delle partite favorevoli probabilmente alla Viterbese, ma la Lupa-Castelli si dimostra, malgrado un organico certamente inferiore alla Viterbese, degna capolista e quindi una squadra che potrà fino all'ultimo luttare per la vittoria del campionato con la Viterbese. Concludo qui, ricordo la pagina Facebook di Newtusha per chi lo vuole consultare e la pagina anche di Twitter e di Google+. Un saluto.